No, non mi storpia levasco perché ti giuro ti mangio la testa. Are you sure about that? Se mi storpi l'amore della mia vita. Mi storpi l'amore della mia vita. Smettila di farmi le facce perché vado a riguardarla. E poi ti do vuote proprio. E... Non credo. Perché la dobbiamo sistemare perché... Bene così, vai arcieri, vai arcieri miei. Un momento, un momento, un momento, un momento. Nemo mu, nemo mu, nemo mu, nemo mu. Cazzo, cazzo, cazzo. Merda, troia, merda di quella puttana da scha... Porca vacca, porca. Trofa, 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 trofa. Se vai il gas week, che vieni il gas week. Si, dovrai riusci... Ma quando ci andiamo? Ah, non lo so io. Ragazzi, ho perso anche questa partita, ho perso. Puttana, la troia della merda, troia. I ors, a crema, le dei ors, a le ne... Porca troia. Porca puttana. Dai, ma che palle, mi fa incazzare che ho speso... Nelle cazzo di merda di 100 gemme per andare a prenderle, porca troia. Vediamo un pochettino, vediamo cosa cazzo gioco io. Vediamo un pochettino cosa fare, vediamo un pochettino cosa fare. Tentiamo il... Giaffanculo, va! Ma guarda te, ma guarda te. Tentiamo la macchina volante dietro, vai. Tira giù il mago elettrico. Tira giù quella merda elettrica. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Vediamo se ce la facciamo, vediamo se ce la facciamo. Sotto ancora col... Mastino. Sotto ancora col mastino. Dai, 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 dai. Vediamo se... Pure c'aveva il fulmine questa merda. Ma vaffanculo, va. Ma pensa te se devo perdere anche così, se devo perdere. Porca troia. Dai, andiamo a fare l'ultima, perdiamo le ultime 100 gemme. Chi cazzo se ne frega, tanto io le cago dal culo, quindi. Beh, allora ragazzi, dal nostro camp è veramente tutto. Spero che la partita vi sia piaciuta. È terminata adesso, da pochi secondi. Da pochi secondi. Le due squadre si sono veramente date giù duro, ragazzi. Si sono schiannate di brutto. Assolutamente vero. Non so se tu hai notato anche quelli riversamenti sull'ala sinistra che aveva la nazionale dell'Uruguay che giocava contro... Le spallate. Le spallate, veramente una cosa... A scassamento. Assolutamente a scassamento. Vi ricordo, ragazzi, il risultato finale che è Uruguay 4, Paraguay 93.